musica allora il turbante Il tuo cappello? No, è di mia nonna Allora è rubato o no il turbante al sultano? Ah, dice che non vuole ospiti Ha messo 50 guardie con la scimitarra All'ingresso Senti cosa dico? Alt, il sultano ha ordinato di non far passare nessuno Non vuole che la sultanina sua figlia Venga profanata da occhi impuri E poi, per profanare Sultanino Sì, ha senso Ottimo padre questo sultano C'è un po' lo stimo No, 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 ragazzo Questa sultanina è la svolta del pomeriggio Allora ti dico cosa facciamo Ora noi ci vestiamo da danzatrice del ventre Entriamo, facciamo un paio di mossettine I 50 baffoni ci vedono e fanno Affan, perché noi saremmo tutti i secchi E noi andiamo proprio dritti a profanare la sultanina Forza Spermi una cosa Perché in ogni gioco per te l'unica soluzione È profanare qualcosa o qualcuno? E sono fatto così Mi piace, mi piace Ti piace un travestito che va letto con 50 guardie? E beh soprattutto, no, ci scappa anche il video Scusa Sexy, dirty, latina, danzatrice del ventre Likes to take huge scimitarra From 50 baffoni Dico 50 E click Asbubububbiangi Heely Only Sono 20 minuti che non tocchi il pad Lo vogliamo dire? Siamo bloccati Eh? Ma prima il padostaria da fare le cose Se non so cosa fare È inutile toccarlo Sei che è un po' Diciamo il cuore Nel nostro concetto dell'essere bloccati, no? Non siamo bloccati, siamo in una fase di scarsissimo progresso Ed è in onore della fase di scarsissimo progresso che voilà, le soluzioni No, 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 metti via, metti via, no, metti via subito Noi leggiamo solo come si parla con il sultano, poi le mettiamo via e non le tocchiamo più, giuro, giuro Carlo, regole per gli adventure le sai, non possiamo usare le soluzioni se non passiamo almeno tre ore senza andare avanti Tre ore Un'ora Tre ore Un'ora e mezza Tre ore Due ore Tre ore Questa contrattazione è in una fase di scarsissimo progresso Tre ore Non leggi mai la Bibbia Fatica, piena di errori di ambientazione, problemi di continuity, personaggi che appaiono e scompaiono Poi mi sono sempre chiesto, i dinosauri, come sono i dinosauri? Chi se ne frega, questo era pal fiction, no, non l'hai riconosciuto, era facilissimo Che personaggio eri scusa? Negativo di Samuel Jackson Senti, io mi sono rotto Ollie, adesso prendiamo le soluzioni e per entrare nel palazzo del sultano, cercare di... No, dai, mi rovini il gioco! Oh, il grande gioco, un'ora passata a fissare il muro, complimenti, grande momento di videogioco hardcore Questi giochi vanno fatti così, ragionando passo passo, seguendo la storia, ci sono i colpi di scena, che appassiona No, i colpi di scena è vero, belli eh, come ieri quando il califo oscuro ci ha detto Io sono il tuo babbo Bel colpo di scena Sì, in effetti Ti ha dato più fastidio la scontatezza della cosa o la parola babbo? Ma no, la califabona è nostra mamma, io mi ce l'ho già pasticciato Ti prego Ollie, ti prego, ti prego, ti prego, ti prego, leggiamo le soluzioni Cosa, hai detto strappiamo? Ho detto leggiamo Ah, strappiamo le soluzioni Oh, oh, vuol gioco pesante, vabbè, 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 ti dico il finale Boh, 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 metti via Nooo, guarda chi muore alla fine, c'è anche l'immagine, bellissimo, vuoi vederlo? Ci stavamo divertendo, eh, stavamo scherzando, in simpatia, metti via Oh, tu mi fai leggere come si parla con il sultano, sbamma, io ti dico il finale Caro, lo sai che odio gli spoiler, non mi costringere Eh, io non vorrei, però, oh, oh, si dischiude Oh, 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 fight club Che, in che senso? Finale di fight club No, no, che, no, dai Ollie, non l'ho ancora visto, fight club, dai, no Nooo Metti giù quello spoiler Paura, eh No Paura? No Paura? Sbaglio o stai prendendo tempo? No, no Perché paura? Carlo, deve esserci un altro modo Eh, Ollie, io non vorrei arrivare a tanto, ma sai, noi una volta eravamo amici, solo che... Possiamo ancora esserlo Allora mettiamo giù questi fogli, eh? E facciamolo insieme Insieme Al mio tre? Al tuo tre E allora passalo ed è uno E dai due Ed è tre! E dai due Ed è tre! Due Ero E anche tu l'hai girato? Sì, e anche tu hai gli occhi chiusi. Sì. Però ti avverto, posso stare così per ore. Io posso anche mettere una benda. Una benda? Sì, una benda, una benda. Una benda! Oli, cosa sei, è andato in lupo? Una benda, quelle cose che si mettono qua per non vedere. Carlo, dobbiamo bendarci, dobbiamo bendarci. Musa un trucchetto, secondo me siamo già abbastanza ridicoli anche così. Nel gioco, dobbiamo bendarci nel gioco. Andare dal sultano bendati. Ah, perché così non possiamo profanare la principessa con gli occhi? Beh, però con tutto il resto, eh? Bravo! Geniaccio, quando ti applichi ce la fai. Sei un genio, forza! Ah, comunque... In realtà prima bleffavo. Ho scritto a basso gli spoiler. Sì, bleffavo anch'io. Cioè, voglio dire, c'è scritto chi muore alla fine, però ti pare che mettono la foto, dai. Ma perché? Sono un screenshot bello? Sì, uno bello, ma... Una sultanina sgozzata. Ma chi è che... Capisco che... Però... Ma chi se ne frega, tanto era solo... Era un clone, ti dico, quindi... Oh no, forse questo è il finale del secondo. No, perché il finale del secondo in realtà lei muore, perché nel terzo torna come non morto nel... Vabbè, colpisci. Forza! Finale di Fat Club, in realtà Brad Pitt... ah... ... ... ... ... identsги她 ... ... Grazie a tutti.